quando dobbiamo gonfiare il wing per prima cosa dobbiamo distenderlo sotto sopra con le maniglie dello strat che puntano verso il cielo il led in edge e lo strat non devono essere accartocciati inoltre per fare in modo che la vela non si giri con il vento bisogna puntare la maniglia neutra verso la direzione del vento il leash della vela va assicurato un punto fisso alcune pompe dispongono di un gancio per fissare il leash alla pompa questo wing dispone come vediamo di due valvole da sap quindi prima di cominciare a gonfiare bisogna assicurarsi che siano chiuse esistono vari attacchi delle pompe quindi bisogna assicurarsi che siano compatibili con il nostro wing quasi tutti gli attacchi sono innesti a baionette quindi bisogna ruotarli in senso orario per fissarli alle valvole questo wing dispone di una valvola di comunicazione tra i due bladder che va aperta quando vogliamo gonfiare il wing prima di cominciare a gonfiare il wing bisogna sapere che pressione necessita questo dato viene riportato di solito vicino alle valvole in questo caso si consiglia una pressione tra 6 e 7 psi oltre ai valori espressi sul manometro possiamo controllare l'attacco dello strata all'heading edge per valutare la pressione rigonfiature e bolle sono sinonimi di pressioni eccessive rughe e dunette invece di pressioni insufficienti una volta gonfiato il wing per togliere la pompa bisogna ruotare in senso anti orario l'attacco della pompa fatto questo bisogna chiudere le valvole con il coprivalvole infine prima di andare in acqua bisogna chiudere la valvola di comunicazione tra i due bladder ci vediamo alla prossima lezione grazie e arrivederci